Noi siamo molto favorevoli a una rivisitazione della programmazione in termini anche qualitativi, soprattutto in un bacino come il Po, perché noi ragioniamo e lavoriamo con 8 regioni più la provincia autonoma di Trento, quindi con una frammentazione di normative che ci consente di essere performanti e di dare immediatamente risposta alle nostre comunità. Pertanto sarebbe opportuno quindi una rivisitazione e un controllo di questa attività al fine di riuscire a trovare delle risposte esaustive per i territori. Nella visione che abbiamo noi ci occupiamo di quantità di acqua, di qualità di acqua e di scarsità di acqua, quindi i tre effetti più importanti per l'acqua, avere immediatamente un numero di regioni che ha una pianificazione e una struttura normativa il più uguale possibile ci consentirebbe davvero di dare una qualità di vita e una risposta migliore alle nostre comunità.